Per rafforzare come stai dicendo, io quando prima venivo in Puglia, i primi anni che lavoravo in qualche modo, la prima commissione non esisteva neanche in qualche corse, quando ho cominciato, ecco, quello che ho notato è che ci sono le professionalità, la vecchina ha fatto mille lavori, ecco, e in questi ultimi anni mi sono reso conto che ormai è veramente consolidato, cioè ci sono delle trucche tecniche, delle professionalità, c'è una conscienza, cioè da casting, casting director piuttosto che scenografi, piuttosto che veramente c'è un lavoro di squadra di altissima professionalità e che questa regione può vantare a questo punto, perché poi chiaramente a pure di fare film uno impara, si trasmettono delle sapienze, delle conoscenze, il cinema è un lavoro artigianale, quindi in questo senso mi fa molto piacere e la Puglia che comincia ha fatto un ottimo lavoro e questo deve assolutamente continuare, poi insomma, poi arrivano i turbi da Roma, dall'estero, spendono tanti soldi e la regione in qualche modo ne ha dei vantaggi. vorremmo un nuovo, è un'anticipazione assoluta che faccio, un nuovo, come dire, supporto ai calenti pugliesi con il prossimo banco che stiamo per lanciare e che sarà indirizzato proprio alla crescita dei calenti pugliesi perché fino ad ora si potevano sostenere i costi dei lavoratori pugliesi solo quando lavorano in Puglia. Il prossimo banco sarà esteso anche a chi, cominciando in fine la nostra regione, andrà a lavorare fuori, i pugliesi saranno sostenuti anche fuori. Questo è una cosa non da poco perché vuol dire che le trucche si possono formare in Puglia che possono viaggiare in Puglia e in Puglia. Diciamo che anche con un festival cinematografico, poi la filiera è completa, no? E' certo, in qualche modo, la proporzione serve anche a questo. Per questo è sempre il contegno alle sale e quando i film vanno proiettati per le sale. quindi va data una particolare attenzione al momento finale.